Ma che di sera per? Siamo dove? Sul treno? Siamo sul treno di desideri. No ragazzi guardate che ci abbiamo la Gaietta, buongiorno, il cameraman 1, quel bellissimo ragazzo che si chiama Luca che fa il portiere di calcio. Faceva ma non è il portiere di notte. Adesso cerca la morosa. Lui è sempre quello che deve lasciare il cellulare per le morose. E quindi abbiamo l'Anto. Ma dove stiamo andando? Adesso vedremo. Andiamo all'incontrario aiuto. E' partito il treno. No ragazzi ma guarda siamo all'idroscalo. Oddio. Ciao. Io salutavo. Guardate che bello. C'è tutto il lago. No ragazzi siamo all'idroscalo. Guardate che bello. Guardate che bello qua. Guardate che bello qua sulle giostre. Anto dopo ti spingo sulla calcio in culo. No no no. Anzi no mi spinge. Mi spinge il Luca. Beh qualche video che può fare il marco da giostre. Certo. Vero vero. Bello veramente. Ma veramente è tutto tenuto benissimo. Sto andando anche all'indietro. Mi viene un po' da vomitare. Ho appena mangiato quattro panini e due briocchi. Ragazzi mi dicono che qui c'è il lago delle vergini. Non so se lo scappate via o se non ce n'è ne più di vergini. Però andiamo a vedere i cavalli adesso. Vediamo. Guarda. Uh che bello. Guarda. Guarda. Guarda che ingrandisco. Ci sono i maiali. I cavalli. Che belli. Ma questi sono cavalli da corsa o ne vengono così adesso? No no. Ma girano anche il lago. Le corsi. Ma pensa che belli. Stiamo andando alle giostre di Milano. Dove siamo qui Anto? All'idroscalo. All'idroscalo. E andiamo nel parco giochi. Dopo vi faremo vedere le giostre. Camera man 2 dove sto andando e ho vestito così? Con la camicia bianca e lo zaino. Era finito di fare il cameriere qui a Rodaus. Ah ok. Adesso è l'ora di pausa vai sulle giostre. La pausa vado sulle giostre. Ah ok. Poi veniamo qui a mangiare la pagoda. Entriamo dentro nel mondo dei divertimenti. A dopo. Stiamo entrando. Oddio. C'è il laser game. C'è il laser game. Oddio. 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 No ragazzi ma guardate che bello. Uso non spunti. Esatto. Non facciamo bocciare. Si lo so. Ma qua è bello. Che cosa. No? Deoca piaccia. Dace il piano. Ma ha tentato il primo. No, sendais l'interno. polivo questa è la parte per i bambini e noi dobbiamo andare su quelle dei grandi il bruco mela no ragazzi stiamo andando sul treno fantasma cos'è fino adesso? niente dentro lì l'orso senti l'orso senti che roba adesso è buio qua ma che tu va a cadavere ti sta un poco bene paura marco camera meno paurissima ma che spettacolo qui guarda cos'è? io lo guardo nel telefono oh mamma cos'è quella lì? oh mamma che brutta faccia ma ho paura è sparita cos'è mai? oddio che cosa c'è qua? oddio 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 ma non finisce più oh mamma mia cos'è? aiuti oddio che cosa c'è? ma troppo piano eh ma non c'è neanche una discesa no ma non fa aveva ragione ma fa paura siamo usciti ragazzi vado sui galioni vado sui galioni mi sto cagando ad osso che erano dimenticati? erano dimenticati c'avevo la focaccia qua, vi dico solo questo, a dopo ragazzi devastante, ma che roba devastante, adesso andiamo sull'idrovolante, non sull'ottovolante come si chiama quello che va in cima? sul butio questo qui è un ottovolante, 8, 9, 10 volante ma che roba, finora in cima torno giù e via eccoli eccoli qua stai spiegando come deve fare? perchè è stato rotto così? andiamo sui tronchi, tutto bagnato eh? ma che roba qua prendiamo una lavata ragazzi ho paura ragazzi siamo sui tronchi, sono tutta asciugata a marcia ma no, aiuto, è normale che va tutto così ma che roba? no ragazzi, mamma che siamo, siamo partiti ma dove siamo qua? Milano, Milano, ma Milanchi siamo a Milanchi, ma è normale che va così piano? si, adesso prendo la ricorsa Mamma mia, lentissimo, prendi la ruota Dove siamo qua? Mamma mia, ma perché si ferma a paura? Eh, perché rallenta Sì, si fai così, ahah Va giù di colto adesso, ragazzi Tieni il telefono, va giù di colto Tienilo, Marco, tieniti a me Così, vai, va giù di tantissimo adesso Pronti? Via! Via! Ragazzi, abbiamo un ragazzo dietro che si è bagnato Come ti chiami? Chiamami Alessio Alessio, siamo su YouTube Ciao Si è bagnato tutta la camicia Tutto bagnato Anche la testa Eccoli E la gara è per prima La potonica ultima, eh La potonica ultima Guarda che bello Che grosso No, questo qui lo voglio vincere Guarda che ragnone che c'ha sulla gamba Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti